Questo programma è presentato da Banca Popolare Etica. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Sono imprenditore, il mio motto è vita tua, vita mia. Nicola, siamo in una realtà che non è un'impresa, ma un network appunto, un network felice di tante imprese messe insieme. Da dove parte questa idea? Questa idea ha un'origine, devo dire, quasi filosofica. Perché? Perché nel mio percorso di vita ho imparato una cosa fondamentale, che quando si fanno le cose bisogna cercare di farle bene. E se sono cose belle e buone, questo dà gioia e felicità. E l'impresa, fare impresa è una cosa che, se fatta bene, dà veramente tanta gioia e tanta felicità. Happy Network è una rete di imprese perché ho voluto dare prevalenza al concetto di generazione di imprese, del fare imprese con i giovani. Perché io non sono nato figlio di imprenditori, mio nonno era contadino, mio padre era cantoniere provinciale. Mi sono trovato a diventare imprenditori. Allora io dico che la cosa importante che dobbiamo tenere presente è che non è vero che imprenditori si nasce, imprenditori si diventa, però da giovani. Mi guarda, a proposito, pensavo il concetto di impresa può essere uno strumento per una rinnovata, sana azione a favore dei giovani, nell'ambito per esempio delle politiche giovanili, ma perché no, visto il contesto che ci ospita, della pastorale giovanile, dell'azione della Chiesa a favore dei giovani? Secondo me è lo strumento più importante che la Chiesa deve utilizzare se vuole cambiare il mondo. La Chiesa si è interessata di persona e di famiglia, famiglia cristiana, ma è importante capire qual è il ruolo dell'impresa nella società. Sono le multinazionali che dominano il mondo e una ragione per cui ho puntato sulle reti di imprese è quello di cercare di coinvolgere tanti giovani nei processi generativi di creazione di impresa che prestano attenzione innanzitutto alla persona, all'ambiente e al territorio in cui queste imprese nascono, perché questo consente di far svolgere all'impresa un ruolo sociale. Quindi un ruolo sociale che può assumere i tratti anche il profilo di un ambiente educativo, l'impresa? L'impresa è un luogo educativo per eccellenza, è un luogo formativo per alcuni versi, ma se si dà una funzione, anche morale, una funzione di attenzione al territorio, alle persone e all'ambiente è un luogo in cui la gente trascorre tanto tempo e automaticamente diventa un luogo educativo. E se i valori che trasmette sono i valori che io chiamo i verbi di non torganici, ascoltare, appartenere, collaborare, integrare, sincronizzare, sintonizzarsi, rischiare, fidarsi, ci si può sfidare. E la sfida è quella di propare un cambiamento per un'umanità diversa, che oggi serve, serve soprattutto attuarla con un modello economico di sviluppo imprenditoriale diverso. Bisogna creare ambienti generativi. Allora come si fanno le cose? Si fanno non per gli altri, le cose si fanno con gli altri, le cose si fanno con i giovani. E se questa strada diventa una strada maestra anche per il mondo cattolico, per la Chiesa, diventa lo strumento più importante per cambiare i processi economici e i processi educativi, che sono i processi più importanti, che sono la base del cambiamento. Perché senza un'educatività diversa, che si può sviluppare ovviamente nella famiglia, ovviamente a scuola, ma anche nella comunità imprenditoriale, anche nell'impresa, l'educatività è uno dei trascendentali che serve per cambiare il mondo. C'è l'educatività che genera una nuova moralità e una nuova moralità genera una nuova socialità. Una nuova socialità richiede una missionarietà e quindi un impegno di alcuni a provocare queste cose in modo nuovo. Ovviamente per chi crede tutte queste cose devono avere un filo legato da una religiosità, proprio un religio. E questo impegno per i giovani di Happy Network come si realizza? Cosa fanno concretamente i giovani di Happy Network? I giovani di Happy Network devono fare bene le cose, lavorano e possono qui esprimere le loro potenzialità cercando il loro spazio, il loro varco, fino a diventare soci di nuove iniziative di cui possono diventare imprenditori se hanno anche delle idee, delle volontà proprie. Noi in questo ambiente assecondiamo questi processi, li coltiviamo e diventiamo soci insieme a loro se vogliono creare una nuova iniziativa. E quindi ecco l'ambiente culturale diverso, l'ambiente generativo. Negli anni chi vi ha sostenuto? Quali alleanze educative siete riusciti a creare per portare avanti tutto questo? Allora, innanzitutto l'alleanza educativa principale viene da un sacerdote che si chiama Don Nicola Palmisano, che è stato un mio mentore perché mi ha introdotto a questa riflessione sulla dinontorganicità, che significa che l'impresa è un organismo dinamico, essenzialmente dinamico, cioè è un qualcosa che si fa nel tempo e nello spazio e che se è attento alle persone e all'ambiente non può fare altro che bene. Poi abbiamo sviluppato tutta una serie di rapporti con Banca Etica, che è la nostra banca di fiducia che ci ha finanziato, abbiamo sviluppato il rapporto di alternanza scuola-lavoro con le scuole, abbiamo alcune relazioni con la Caritas della nostra diocesi che ha visto che operiamo in un certo modo e collabora con noi e noi con loro. Le agenzie educative diventano tante perché l'impresa per me è di per sé un'agenzia educativa fondamentale, importante, se si vuole procedere in un processo di cambiamento, di miglioramento continuo del mondo. Non si può vivere, secondo me, solo avendo in testa l'assoluto danaro. Il fine di un'impresa non è il profitto. Il profitto è lo strumento più importante a cui bisogna prestare attenzione perché se non si fa profitto l'azienda muore, è sicuro, è certo, ma non è il fine di un'impresa. Il fine è quello di servire utilmente la comunità e l'ambiente in cui si vive. Un'ultima battuta, rivolgendosi ai giovani, cosa ti sentiresti di dire loro rispetto anche a quelle che possono essere le questioni, le problematiche relative ai giovani del sud? Mi sentirei di dire quello che diceva mia suocera, una santa donna che diceva, tutte, lo diceva in dialetto, io lo dico in italiano, tutti i pensieri dovete raccogliere ma non dovete lasciare i vostri pensieri a meno che quelli degli altri non arricchiscano i vostri. Ok Nicola, l'intervista è terminata. A questo punto chiediamo a chi ci ospita di fare un giro, di farci visitare le vostre strutture, i vostri spazi. Grazie a tutti i nostri spazi. Grazie a tutti i nostri spazi. Grazie a tutti i nostri spazi. in Puglia con Nicola, coordinatore responsabile di questa rete di imprese Happy Network, è il momento del tutorial. Nicola abbiamo immaginato una cosa un po' diversa mi sembra. Ho preferito, piuttosto che far vedere strumenti, luoghi, mezzi o processi in atto che riguardano in genere le imprese, ho preferito far parlare dei giovani, perché Happy Network è un generatore di imprese, non è un generatore solo di pasta prosvolta o di prodotti della svolta o di energie rinnovabili o di processi costruttivi, è soprattutto un luogo in cui si vuole coltivare il processo di generazione di imprese. e chi meglio può fare questo se non le testimonianze di alcuni giovani che sono arrivati qua magari per fare degli stage e poi si sono ritrovati ad essere imprenditori e soci di iniziative imprenditoriali che fanno parte della rete Happy Network. Sono Nicola Cascarano e sono qui oggi a portare una referenza, quella di Happy Network che un po' non è solo lavoro ma è anche oggi una famiglia che mi accoglie. Io l'ho conosciuta nel 2007 e grazie a un colloquio che ho avuto modo di fare un po' per fortuna, un po' per conoscenza, comunque fatto sta che ho fatto questo colloquio, avevo all'epoca 19 anni, venivo da un mondo in cui studiavo informatica a scuola però il professore mi ha bocciato, quindi mi disse togliti dalla testa l'informatica perché non è il tuo lavoro quindi un po' per ripicca, un po' per voglia di rimettermi in gioco, in discussione ma anche di mostrare a me stesso che l'informatica poteva essere il mio lavoro, ho deciso di fare questo colloquio. Sono arrivato che ero un po' scapestrato, passatemi il termine, però grazie ai miei colleghi, alle persone che mi sono state vicino ho avuto la possibilità di crescere e di mettermi in gioco, quindi è partita un po' per sfida, un po' per gioco è diventata una cosa seria, quindi diciamo che ho iniziato a studiare l'informatica con l'inizio del mio percorso lavorativo tant'è che nel giro di sei mesi mi hanno proposto di fare responsabile. La realtà aziendale in cui vivo, come dicevo prima, non è solo lavoro ma è un contesto di famiglia, amicizia, relazioni e quindi non mi sono mai tirato indietro, penso sia stata una delle scelte più consapevoli che possa aver fatto nella mia vita e che mi hanno portato comunque oggi a essere socio di Lagos, far parte del contesto di Happy Network o avere comunque ancora oggi la possibilità di rimettermi in gioco, conoscere sempre nuovi clienti, nuove figure aprire nuove relazioni, l'azienda è cresciuta. Sono Milena Mele, sono la figlia del fondatore di Oasis Temi che è l'origine della rete Happy Network e vi parlo un po' del mio percorso personale. Ho iniziato i miei studi in storia dell'arte, mi sono poi successivamente laureata perché nelle mie intenzioni non c'era quella di proseguire il percorso professionale della mia famiglia. Successivamente però una serie di condizioni mi hanno portato a dover fare i conti con la realtà e quindi decidere se rimanere qui in Puglia o emigrare verso il nord. Dato che sento un attaccamento molto forte per le mie avici e anche un attaccamento forte per la famiglia, queste due cose si sono sposate e ho deciso di provare a inserirmi nella realtà di Happy Network. Questo è stato fattibile anche perché Happy Network è molto sfaccettata e quindi è facile trovare il proprio posto all'interno della rete. Anche se la maggior parte delle aziende in rete si occupano di servizi informatici, ho potuto inserirmi con il ruolo di responsabile delle risorse umane. I miei studi mi sono stati comunque molto utili per l'apertura mentale che mi hanno dato, quindi per la forma Mentis. Ho fatto la gavetta come tutti, ho iniziato inizialmente dalle prime cose, occupandomi un po' di comunicazione e affiancando altre persone che precedentemente si occupavano di risorse umane fino ad assumere un ruolo di responsabilità. Attualmente seguo tutte le persone che sono qui da noi, tutti i nostri collaboratori, siamo circa un'ottantina, il mio compito è quello di accompagnarli sin dall'inizio dell'ingresso nella rete, quindi con il semplice colloquio, fino anche ai momenti in cui accompagnarli nella crescita professionale, fino purtroppo anche ai momenti in cui bisogna accompagnare le persone all'uscita per esigenze aziendali, ma anche per esigenze personali. Quindi quello che mi preme dire riguardo la mia personale esperienza in EpiNetwork è che cerchiamo di puntare sui giovani perché nei giovani vediamo il futuro della nostra terra, a cominciare dalla Puglia, ma poi la nostra rete si estende su tutto il territorio nazionale, e quindi la mia ambizione è poter far crescere il mio ruolo anche nelle altre realtà che fanno parte di EpiNetwork. Sono Nicola Scattaglia e lavoro in Evolware come programmatore. All'inizio avevo iniziato questo percorso in EpiNetwork principalmente in un'altra azienda, il Centro di Resistenza Tecnica, però sono rimasto mezza giornata in questa azienda perché non era la mia passione. Uscito da quest'altra azienda, dopo un po' di tempo sono stato richiamato per rientrare in un'altra azienda, che era Evolware. In questa azienda avrei fatto ciò che mi sarebbe piaciuto, cioè programmare. Non pensavo a qual era il fine di questa strada, però iniziando questo percorso non avrei mai saputo dire dove sarei arrivato. Infatti all'inizio ero molto timido, non parlavo quasi per niente e non avevo neanche la barba. Però in EpiNetwork ho trovato la mia strada sia nella realtà aziendale che nella realtà personale. Infatti EpiNetwork è più una famiglia che un'azienda. Quindi è come se non stai parlando con il tuo collega, in parte è vero, però stai anche parlando con un amico o addirittura con un fratello. Salve, sono Gianni Fiorentino. Ho iniziato il mio percorso in EpiNetwork nel 2010, agosto 2010, praticamente un mese dopo il conseguimento del mio diploma. All'epoca ero un ragazzino e non avevo ben chiaro quello che sarebbe stato il mio futuro ed ebbi questa opportunità di fare un colloquio con la società CDA SRL che fa parte della rete EpiNetwork e da lì è iniziato il mio percorso qui in azienda a Gioia. Ho rischiato, citando uno dei verbi di non torganici, tant'è che parallelamente mi ero anche iscritto all'università perché non avevo idea di quello che sarebbe stato il mio percorso. Però poi guardando in questi anni a questa esperienza sono molto felice di aver rischiato perché comunque ho trovato un ambiente lavorativo giovane che mi ha permesso di fare un percorso lavorativo ma anche umano perché ero un ragazzino, avevo 18 anni, quindi sono cresciuto molto anche come persona e quindi ho avuto la possibilità di crescere sotto molti punti di vista fino anche ad entrare nella società pro svolta che per me è stato un grandissimo traguardo ma che al tempo stesso costituisce un punto di partenza perché con questa nuova società è iniziata una nuova sfida che ci porterà il gruppo Happy Network a ampliare il proprio raggio di azione perché storicamente nasce nel settore informatico e adesso con ProSvolta andiamo a sfociare anche nel settore del food quindi con l'obiettivo di promuovere i prodotti naturali, quindi pasta, frise e quant'altro perché valorizzano il nostro territorio, la nostra cultura e soprattutto aiutano a diffondere anche valori di naturalezza in un periodo, in un contesto in cui non può che fare del bene tornando a lontano 2010 mi piace ricordare che all'epoca ho rinunciato, posso dire così, a una vacanza con degli amici a Londra dove tuttora non sono ancora andato però perché era agosto, io ho iniziato a lavorare in agosto 2010 però è una rinuncia di cui sono estremamente soddisfatto perché poi mi ha permesso di intraprendere questo bellissimo percorso di cui nonostante sono passati diversi anni, penso di essere ancora all'inizio e eccoci bellissime queste testimonianze che credo siano partite da un cuore per arrivare a tanti cuori, quelli dei giovani dirette siamo ai saluti, Nicola innanzitutto ti ringrazio e ringrazio tutta l'equipe, le persone che abbiamo incontrato anche quelle che non sono apparse, la squadra che ci ha accolto, il gruppo che ci ha accolto non so se vuoi dire un'ultima cosa l'ultima cosa che voglio dire è un grazie a voi perché il ruolo che svolgete mi sembra fondamentale senza una pastorale per l'impresa il mondo non si cambia